Questa sera in coppia con Pepe, può giocare ed è stato schierato da Ancelotti anche come terzino destro. Otto da titolare nella passata stagione. Bale, dalla distanza, Bale! Gareth Bale al decimo minuto con un gol semplicemente magnifico. Porta in vantaggio il Real Madrid. 1-0, rete fantastica del Gallese. Un gol che fa impazzire il California Memorial Stadium. Recupera caparbiamente palla. Pepe parte praticamente dal cerchio di centrocampo Bale. Nessuno dell'Inter va a chiudere lo spazio. Ne approfitta il Gallese che con il sinistro batte Andanovic. Traiettoria stranissima quella del pallone calciato da Gareth Bale.